buonasera buonasera grazie di essere intervenuti questa sera in maniera un po anomala io sono l'autore del libro però conduco un po anche le danze tra i due amici marco carminati storico dell'arte responsabile delle pagine dell'arte del sole 24 ore e filippo daverio va bene non ha bisogno di alcuna presentazione impresentabile impresentabile partiamo da qui dal libro è nato un pochino da un'urgenza perché ci si è trovati ad affrontare più volte che cos'è questo quadro questo salvatore mundi che è diventato il quadro più costoso del mondo quando il 15 novembre scorso è stato battuto all'asta da christis a new york per 450 milioni di dollari era questo quadro la storia di questo quadro che in dieci minuti così tocchiamo per sommi capi per lasciare poi spazio un po la discussione racconta un po anche lo stato della storia dell'arte delle valutazioni d'arte del mondo dell'arte attuale e così come insomma oggi abbiamo visto si può cambiare sesso c'è il trapianto di faccia viviamo in una società liquida fatta di compatibilità di fake news anche la storia di questa tavola 45 per 65 centimetri è piuttosto accidentata nel senso che è francamente largamente priva di documenti e procede per una serie di ipotesi che così molto sommariamente vediamo e poi lasciamo spazio alla discussione il primo quando c'è stata l'asta il documento a cui si è fatto riferimento diciamo per l'attribuzione risale al 1650 e si trova a Londra quindi il primo documento che abbiamo su questa tavola è di 150 anni dopo la sua nascita nei primi 150 anni non abbiamo il benché minimo documento lo sappiamo nel 1650 perché Carlo I viene decapitato a questo punto i suoi beni passano di mano c'è un documento dove si segna che alla corte degli Stuart nel 1651 ritenevano di avere un quadro alla parete di Leonardo Ravinci che rappresentasse una testa di Cristo quando è stato fatto allora coloro che sostengono come Cristis no che l'ha battuto che il tavola sia di Leonardo deve supporre una data non abbiamo documenti molto difficile che sia del primo periodo milanese di Leonardo molto più probabile che sia del secondo periodo cioè che sia un quadro realizzato per Luigi XII re di Francia ma non nel periodo della caduta di Milano settembre 1499 perché i tempi sarebbero troppo stretti perché poi anche Leonardo parte nell'aprile del mille dell'anno successivo è già a Mantova Venezia e Firenze ma probabilmente nel secondo periodo in cui viene a Milano Luigi XII re di Francia quindi a partire presumibilmente insomma dal dal 1507 questa è la data più probabile in cui Leonardo può averlo fatto perché il re di Francia chiede all'ambasciatore Pandolfini a Firenze di avere Leonardo indietro a Milano perché vuole fargli fare alcuni quadri naturalmente tra l'altro ipotizza un suo ritratto naturalmente non c'è nessun documento che parli di Salvatore Mundi testa di Cristo cose del genere sempre secondo l'ipotesi che deve sostenere che sia un vero Leonardo quello battuto da Cristis questo quadro si muove da fatto a bottega fatto da Leonardo iniziato da Leonardo proseguito dagli allievi tutto questo è piuttosto poi raccontato nel libro resta piuttosto nell'ombra comunque si deve muovere da Milano per andare in qualche modo in Francia al castello di Bluat dove risiede la corte di Francia nessun ricercatore francese a Bluat o altrove ha trovato un documento relativo alla presenza di un Salvatore Mundi di Leonardo si ipotizza che possa essere andato a finire a Nantes è una storia un po' complessa per ora evitiamo Leonardo perché l'avrebbe fatto Luigi XII perché gliel'avrebbe chiesto Luigi XII era venerava diciamo così e Anna di Bretagna sua moglie l'icona del sacro volto di Cristo e a Genova territorio sforzesco dove re è con certezza nel 1507 c'era un'immagine di Cristo e quel che vediamo lì al centro di altre sono varie immagini che circolavano già di Salvatore Mundi quella sotto è la pala Peruzzi di Giotto che certamente Leonardo aveva visto durante il periodo fiorentino comunque se Leonardo ha dipinto un Salvatore Mundi lo deve aver dipinto più o meno in queste date nessun documento è presente mica le dipingeva solo lui gli allievi ne dipingevano parecchi e da qui inizia il mito che ci fosse stato un originale di Leonardo e gli allievi avessero seguito il modello realizzandone parecchio uno l'abbiamo anche qua a Milano quello di Salai di Gian Giacomo Caprotti allievo di Leonardo che l'imprenditore il patron dell'S Lunga Caprotti acquistò alcuni anni fa e donò poi alla Pinacoteca Ambrosiana restando anche un po' deluso in quella circostanza di come avvenne insomma come venne accolto il dipinto ce n'erano molti altri alcuni attribuiti a Boltraffio a Marco Roggiono e per tutto il corso del novecento il Salvatore Mundi che vedete con la stola rossa detto Salvatore Mundi de Ganè dal nome dell'ultimo proprietario francese il barone de Ganè che lo possedeva era stato ritenuto il vero Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci stante anche l'attribuzione fatta da Pedretti e da una sua allieva coinvolta peraltro nella successiva vendita. Vi prego di notare dopo ci torniamo comunque anche che la veste sopra a fianco della croce di Sant'Andrea forma una sorta di lettera Omega ultima lettera dell'alfabeto greco adesso vediamo perché. Nel corso del settecento in Inghilterra si riteneva questo il Salvatore Mundi di Leonardo per esempio quello di Light Court e nessuno aveva messo in dubbio che non fosse questo. Primi documenti 1650 in Inghilterra quando passano di proprietà i beni reali e allora ecco che finalmente abbiamo i primi documenti su questa tavola che sarà quella battuta da Cristi o si ipotizza che sia la stessa. Cristi ritiene che sia la stessa. Abbiamo quindi un documento scritto dove si dice che nella galleria Regia c'era una testa di Cristo ritenuta di Leonardo. L'incisore di corte il boemo Wenceslaus Hollar fa questa stampa da incisione e nella didascalia diciamo indica che il soggetto è tratto da Leonardo da Vinci e lo data Londra 1650. A dire il vero in quella data lui era ad Anversa dove sta dal 49 alla metà del 1651. Però fa questa incisione che è effettivamente praticamente identica al quadro che poi viene battuta da Cristi. Leonardo lascia di Leonardo abbiamo questi due disegni della manica della mano benedicente e della della tunica e i due disegni sono in Inghilterra a Windsor perché vennero lì portati nel 600 da un da un grande personaggio che era anche insomma il mecenate di quello incisore che abbiamo visto un attimo fa. Nel disegno della tunica vedete che si forma nettamente nel panneggio la lettera Omega che c'è nel Salvatore Mundi de Ganè, quello con la tonaca rossa, ma non c'è in quello battuto da Cristi. Questi due disegni siamo direi certi che siano di mano di Leonardo in maniera incontrovertiva. Vediamo se... ah ecco l'Omega sarebbe questa qua. Vedete? Ok. Non si è visto? Ah giusto. Questa è già giustamente, giustamente non abbiamo visto benissimo che si ritroverebbe qui ma un po' più latitante dall'altra parte per esempio. Quindi si accumulano un sacco di dubbi su queste tavole tutte raffiguranti il Cristo benedicente. Presto naturalmente i rivoluzionari di Oliver Cromwell sono costretti a riconoscere nuovamente la monarchia degli Stuart, quindi Carlo II figlio di Carlo I che era stato nel 1649 decapitato, prende di nuovo possesso del trono d'Inghilterra, gli vengono restituiti anche i beni. Per cui quella tavola che Cristi si ipotizza di Leonardo va a Carlo II, qui ritratto come Salvatore Mundi, dopodiché va alla sua amante, a Giacomo II, poi all'amante di Giacomo II, fatta duchessa di Dorchester, dopodiché va al marito della sua seconda figlia, un grande personaggio, John Sheffield che abitava in quella sostanzialmente che oggi è Buckingham Palace, per cui il quadro venne appeso anche a Buckingham Palace. Dopodiché il figlio di John Sheffield lo vende nel 1763 e da allora per un altro secolo e mezzo noi non abbiamo la benché più minima idea di dove stia questa tavola di Leonardo da Vinci. Quando riappare sembra un pugile suonato, naturalmente ha perso l'aureola, i capelli sono rifatti, il fondo è cambiato, niente molto meglio rispetto al chirurgo che adesso non ha fatto il trapianto di viso, si sono sbiancate varie parti, insomma la stola non è più così visibile, lo compra Robinson, il direttore del Victoria and Albert Museum a Londra esattamente nel 1900 e lo compra per questo signore che è James Cook, il terzo uomo più ricco d'Inghilterra all'ora e collezionista, mette insieme una straordinaria galleria di quadri, circa 500 opere, molte italiane che sono nella sua casa di Doughty House a Richmond a Londra, che adesso diventerà un mega hotel di lusso per super russi praticamente, con pochissime stanze, spy eccetera eccetera. e la casa di Doughty House viene effettivamente bombardata nel 1943, per cui la famiglia Cook sposta i quadri per sicurezza nell'isola di Jersey dove ha una proprietà, ma questo quadro non lo sposta, come mai non lo sposta? naturalmente perché nessuno fino adesso ha mai, quando viene tirato fuori nel 1900 naturalmente nessuno pensa che sia di Leonardo da Vinci, nessuno lo suppone neanche lontanamente lo ritengono una tale crosta che non lo spostano dalla casa lo vedono in segni storici dell'arte, da Tancred Boregnus che cura il catalogo della collezione a Bernard Berenson, lo ritengono al massimo una copia tratta da Boltraffio nulla di più, nulla di meno tant'è che nel 1958, passa di mano per tre generazioni della famiglia Cook nel 1958 l'ultimo Cook lo mette all'asta quando svende tutto dopo la seconda guerra mondiale e il quadro viene venduto a 45 sterline 45 sterline e la tavola scompare di nuovo l'unica cosa che si sa è che apparterebbe, che sarebbe stata venduta alla famiglia Kunz cerca che ti ricerca, presumibilmente è la famiglia che a New Orleans ha contribuito alla nascita del museo di New Orleans tant'è che dopo 50 anni di buio, di nuovo il quadro, eccolo qui, che ricompare nel 2005 a New Orleans dove un gallerista americano che tutti noi conosciamo, insomma personaggio esperto che ha studiato alla Columbia ma molto disinvolto si reca a quest'asta di cui era conoscenza e acquista l'opera con altri due soci lui è Robert Simon con altri due soci americani a 10.000 dollari che è un prezzo notevolmente superiore alle 45 sterline ma che si rivelerà infinitamente inferiore ai 450 milioni di dollari siamo nel 2005 Simon lo porta ai suoi amici di Philadelphia per farlo studiare poi lo porta alla Cress Foundation dove ha buonissimi rapporti per cercare di capire che cosa si può fare la cosa che si può fare è naturalmente un bel restauro Dian Modestini, che è la moglie di Mario Modestini un grande conoscitore italiano che lavorava per la Cress Foundation che portò la Ginevra de Benci, la Mona Lisa americana in America, unico Leonardo in America è noto perché quando la portò acquistò due biglietti sui sera uno a nome suo e uno a nome Signora Modestini e Signora Modestini era la Ginevra Benci che si mise a lato comunque la moglie che è un'ottima restauratrice a cui dobbiamo fino adesso l'unico studio scientifico su quest'opera che è la relazione del restauro della Modestini che sono una ventina, venticinque pagine con anche i dati di carattere scientifico la Modestini lo restaura in due tempi diversi e progressivamente emerge lo sfumato leonardesco lì in alto lo vediamo ancora suonato come un pugile nella foto del 1908 poi come lo trova Robert Simon nel 2005 poi durante il restauro quando si scopre che la tavola è completamente tagliata ed era tenuta insieme la parte posteriore l'aureola era stata cancellata il fondo rifatto e varie altre parti insomma che adesso non vi sto a raccontare e poi secondo aspetto tipicamente leonardesco si scopre il pentimento ecco qua che il pollice è stato spostato Dio non era solo Leonardo a pentirsi durante naturalmente quando realizzava un'opera e lo sfumato l'avevano imparato molto bene anche gli allievi naturalmente i riccioli sono tutti completamente rifatti ma sembrano anche molto quegli studi di onde di Leonardo ci sono insomma un sacco di comparazioni ma comunque che ve lo risparmio pian piano emerge da questo restauro straordinario miracoloso una sorta di Leonardo lo porta allora Simon agli esperti della National Gallery più e viene fatto vedere poi anche da altri esperti internazionali quali complessivamente danno un giudizio favorevole sul fatto che sia o almeno sia compatibile con Leonardo da Vinci compatibile vuol dire un po' niente è come quando a quarto grado chiamano l'esperto dopo il delitto trovano un coltello e dicono l'arma è compatibile con l'arma del delitto si è compatibile è abbastanza compatibile tutti questi comunque si dicono abbastanza certi che sia un Leonardo nessuno firma però una perizia non esiste una perizia nero su bianco molto velocemente astutamente la National Gallery nel 2011-2012 battendo Milano che voleva fare la grande mostra su Leonardo per l'Expo cosa che comunque poi ha fatto comunque la National Gallery battendo tutti sul tempo organizza la mostra Leonardo da Vinci pittore alla corte di Milano dove l'opera naturalmente il grande l'opera principale naturalmente il Salvatore Mundi che per la prima volta da Didascalia viene definito di Leonardo da Vinci non attribuito non probabile non scuola non più niente di Leonardo da Vinci e viene esposta a fianco dei due disegni che abbiamo visto prima sebbene i due disegni non siano del tutto compacenti da allora come chiacchieravamo amabilmente prima di venire qui la tavola diventa un bond finanziario ovviamente Robert Simon non ha intenzione di lasciarla ai nipotini o di appendersela in camera per dare l'ultimo sguardo prima di addormentarsi deve solo ricollocarla sul mercato anche perché lui l'ha acquistata a 10.000 dollari e nel marzo del 2013 ci si trova in un bellattico di New York che è di proprietà di uno strano personaggio l'opera deve si dice che l'opera possa essere venduta in trattativa privata Simon aveva già provato a venderle in due o tre posti ve li risparmio viene portata in questo attico per Sotheby's c'è un intermediario che si chiama San Valletta dall'altra parte Simon come proprietario dell'opera e l'acquirente e sarebbe un noto personaggio che Sotheby's conosce bene il mediatore svizzero Yves Bouvier che gestisce dei magazzini dei grandi depositi per la custodia dell'arte a Ginevra Singapore e in varie località dove si possono ottenere esentasse fa la trattativa fa la trattativa Simon vorrebbe 100 milioni di dollari Bouvier non glieli dà perché dice che non riesce ad arrivare a quella cifra ma segretamente sta trattando con un'altra persona a quest'altra persona dice che come dire di soldi ce ne vogliono molti di più ma nella trattativa ne vuol dare molti meno ovviamente se l'assicura è bravissimo Bouvier se l'assicura ha un passato che definire è turbolento è poco è un futuro ancora che lo aspetta tra la prossima diapositiva comunque se lo assicura 80 milioni la settimana dopo lo gira per 127 a quello che era il mandante dell'operazione l'oligarca russo Ribolovlev questo Ribolovlev è un personaggio veramente dai confini molto difficili da definire è stato in Galera un anno per omicidio come mandante insomma di un omicidio del suo concorrente nella vendita della potassa che è insomma un fertilizzante di cui lui è il leader mondiale perché è ricavato da miniere russe e naturalmente l'unico testimone dell'omicidio l'anno dopo ritira ritira quanto dichiarato e Ribolovlev viene del tutto scagionato acquista fa soldi dappertutto acquista proprietà in tutto il mondo una anche da Donald Trump a Palm Beach a lui ha scritto la separazione come dire più costosa del mondo suo era anche l'attico dove si è svolta la trattativa solo che è infuriato come una bestia quando sa che Bouvier ha dato 80 milioni e lui ne ha pagati 127 la settimana dopo quindi che cosa Bouvier era il suo gallerista di fiducia gli aveva già venduto molte opere nei dieci anni precedenti comunque sta di fatto che lo vuole incastrare organizza una cena in una sua proprietà a Kstad in Svizzera con i maggiorenti del principato di Monaco e invita Bouvier la settimana dopo nella sua casa di Monaco per parlare dell'acquisto di un Marc Rochko anziché parlare di Rochko quando Bouvier arriva si trova davanti la gendarmerie che lo arresta allo stesso tempo cosa curiosa anche Simon fa una causa la fa contro Sotheby's perché ritiene che il prezzo che a lui è stato dato 80 milioni di euro sia troppo basso e che l'intermediario di Sotheby's in realtà fosse intorta con l'acquirente Bouvier quindi cause incrociate di tutti contro tutti più o meno tutti se la cavano anche se alcune di queste cause sono ancora sono ancora in corso anche Ribolo Vlev naturalmente non lo vuole tenere per i nipotini né metterselo davanti al letto perché pare che festeggiamenti durino diciamo in maniera continuativa con questo personaggio semplicemente è un bond da far fruttare anche per lui e un paio di anni dopo siamo qui trova la strada mettendolo in vendita attraverso Christie's che lo batte in una in un'asta di arte moderna e contemporanea pur essendo diciamo chiaramente un old master Leonardo da Vinci nei mesi precedenti viene fatto vedere ai più locupletati possibili acquirenti clienti di Christie's e 15 novembre a questo punto dovrei lasciare anche un po' come dire col fiato sospeso come nei migliori gialli perché se no il libro non vende quindi l'editore mi richiama ma comunque l'opera viene battuta a 450 milioni di dollari compresi i diritti d'asta viene viene assegnata al telefono per cui nell'immediatezza ovviamente non si può riconoscere in sala chi sia tantomeno Christie's ci tiene a far sapere chi sia i nomi che si fanno naturalmente quelli i primi che si sono fatti sono quelli dell'emiro del Qatar Altani proprietario del Paris Saint Germain la cui sorella è una delle maggiori investitrici nel mondo dell'arte era quella che aveva comprato Cezanne a 215 milioni di due giocatori di carte di Cezanne per 215 milioni di dollari naturalmente il Qatar è attualmente in rapporti pessimi con altri paesi arabi prima di tutto l'Arabia Saudita e i suoi alleati gli Emirati Arabi Uniti qualcuno pensa a Bill Gates qualcuno pensa al principe saudita Al-Valid che però l'erede al trono dell'Arabia Saudita ha fatto arrestare perché era uno degli uomini più ricchi del mondo aveva fatto arrestare per giri come dire tutti loro quelle Al-Valid quello sulla poltrona color oro del suo yacht e vediamo invece di qui chi c'è di qui c'è Muhammad bin Salman il principe re del trono dell'Arabia Saudita figlio dell'attuale re dell'Arabia Saudita assieme al governatore degli Emirati Arabi Uniti Muhammad bin Zayed Zayed di che cosa stiano parlando i due non lo sappiamo esattamente quello che sappiamo è che circa una settimana dopo la vendita del Salvatore Mundi Lemiro cede uno yacht da 450 milioni di dollari a Muhammad bin Salman che aveva già vaste proprietà vasti yacht naturalmente si era fatto costruire circa dieci anni fa un castello in stile Volevicon alla periferia di Parigi però con interni variamente in oro aria condizionata che passa dai tubi d'oro esce dalle dalle poltrone e passa questo yacht Topaz per 450 milioni di dollari il quadro dove finirà il quadro è diventato di proprietà degli Emirati Arabi Uniti che gestiscono il marchio Louvre di Abu Dhabi nel nuovo museo di Abu Dhabi ovviamente secondo alcuni l'acquisto ha funzioni veramente anche di carattere geopolitico timorosi che il Qatar acquistasse anche questa roba l'Arabia Saudita unitamente agli Emirati loro alleati si sono mossi per assicurarselo l'ultimissimo diciamo colpo di scena e poi lascio a voi la parola è dei giorni scorsi perché era previsto che il 18 settembre appena passato quindi circa una settimana fa l'opera finalmente venisse esposta in pubblico ovviamente nel globalista Louvre di Abu Dhabi ma nemmeno questo è avvenuto e non ci sono state spiegazioni quello che sappiamo per ora è che l'anno prossimo dovrebbe andare in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo dovrebbe andare all'Uvra di Parigi per essere esposto a fianco della Gioconda poi non sappiamo se negli anni successivi gli Emirati reclameranno la Gioconda a questo punto per esporlo a fianco del Salvatore Mundre e da Abu Dhabi questa per sommi capi la storia adesso passo la parola agli amici allora tocca a me intanto ringraziare Pierluigi Panza per aver fatto questo sforzo perché realizzare un libro in tempi così brevi tra l'altro è stato un po' diciamo anche un po' fregato da questo fatto che il 18 di settembre doveva essere il motivo per far uscire questo libro e invece è sfiorita l'occasione quindi speriamo che ci sia qualche sviluppo continuiamo tutti i giorni a guardare questa mail che ci viene mandata direttamente dal Louvre di Abu Dhabi ma per adesso non ci sono notizie comunque il libro vale la pena di leggerlo perché è scritto da una persona che ha seguito evidentemente da cronista attentamente tutta questa storia però ci ha messo del suo io ho ammirato molto perché non so bene dove trovi il tempo ecco questo è il vero mistero e infatti è molto stanco perché non solo è riuscito a seguire la vicenda che naturalmente era una vicenda interessante dal punto di vista della cronaca ma si è messo di buzzo buono a ricostruire tutta la storia del dipinto che qui ci ha raccontato cioè è andato come se dovesse fare una grande scheda in un catalogo e io ho sospetto che questo libro sia arrivato ad Abu Dhabi e appena è arrivato hanno deciso di aspettare di inaugurare il quadro perché ci sono una quantità di indizi all'interno del volume e naturalmente all'interno della storia di questo dipinto che avrebbero veramente consigliato la prudenza cosa che come vedete non c'è stata in nessuna almeno nell'ultimi anni non c'è stata nessuna prudenza come se il quadro non esistesse sostanzialmente cioè quando si fece la famosa asta del 2017 tutti i giornali avevano messo in guardia attenzione che c'erano state delle espressioni di dubbio sulla autenticità di questo dipinto però nessuno ha preso in considerazione questi articoli peraltro realizzati nei giornali più autorevoli e si è andati avanti come dei treni a questa a questa soluzione uno ci domanda come è possibile che si arrivi a questo risultato i maligni usano un vecchio detto che dice così se mi dai un milione questo è un giorgione se mi dai un miliardo questo è Leonardo cioè ci si mette d'accordo diciamo così tra l'incredibile possibilità dell'affare perché qui abbiamo visto che nel giro di tre anni è valzato a una quota incredibile ci si mette d'accordo i dubbi si lasciano un attimo da parte perché è talmente come dire importante quello che si sta maneggiando che anche se c'è qualche dubbio pazienza quindi io consiglio la lettura del libro che fa parte di una serie di libri e di argomenti che sono molto appassionanti di solito quando noi studiavamo queste storie che finivano nelle schede dei cataloghi che erano costrette dalle norme redazionali ad essere brevi quindi un elenco di nomi noiosissimi e si vedeva invece che c'erano delle trame a disposizione i semplici passaggi di proprietà che abbiamo sentito raccontare sono molto divertenti nel libro lui ha la possibilità naturalmente di andare nei dettagli e questo dipinto appunto viene così glorificato nella prima parte della sua storia perché finisce in mano appunto a dei monarchi naturalmente Cristi ha insistito molto sul fatto che era appartenuto a tre re quindi quando fu annunciato all'asta si disse subito appartenuto a tre re certo questo non c'è dubbio però avevano anche le sedie i re quindi non si è stato su questi aspetti si è insistito molto e lui è andato a costruire piano piano tutti i passaggi si è evidentemente fatto fitta di non vedere alcuni dettagli della storia per esempio quando quel dipinto finisce diciamo la sua storia in casa dei duchi di Buckingham viene messo all'asta 1763 se non ricordo male battu venduto due sterline virgola dieci cioè era già nel settecento un quadro diciamo così quasi imbarazzante ma tutti questi dettagli sembravano non interessare quindi questa ricognizione è una ricognizione molto importante perché ci offre un po' il quadro della situazione con naturalmente la prudenza perché è chiaro che esprimere giudizi non è facilissimo perché nessun quadro di Leonardo attribuito a Leonardo ha avuto vita facile cioè diventare un Leonardo vi assicuro che per un quadro è una cosa complicata o si nasce appunto ma nati ce ne sono o Leonardo o si nasce o non si può diventare o si diventa a una fatica terribile volevo citare due casi qui farvi vedere due casi che sono appunto di un Leonardo andato a fin di bene e un Leonardo andato a fin di male questo è andato a fin di bene questo si trova è una tavoletta piccolissima è alta poco più di una spanna si trova nella Galleria Nazionale di Parma la cosiddetta scapiliata ecco questo dipinto è saltato fuori dal niente nel 1826 e a quel momento naturalmente viene venduto all'Accademia di Parma come opera di Leonardo da Vinci a venderla è il figlio di un pittore che si chiamava Francesco Callani pittore che tra l'altro è venuto qui a Milano a lavorare nella nella Villa Reale di Via Palestro nel 700 quindi questo quadro viene comprato dalla istituzione e da quel momento in avanti a Parma si gongolano tutti perché hanno anche loro il loro Leonardo da Vinci fino a che alla fine dell'Ottocento Corrado Ricci che deve fare il catalogo dice guardate questo qui non lo mettiamo in catalogo non è Leonardo non è neanche una copia di Leonardo è un falso del Callani cioè di quel pittore del 700 che in effetti aveva avuto a che fare con tutti i disegni che aveva visto all'Ambrosiana lui era parente dei Gerli che sono una famiglia che hanno fatto una grande edizione delle opere di Leonardo da Vinci quindi c'è sempre questo sospetto che quando la moda quando Leonardo comincia a diventare importante lo si faccia lo si replichi e quindi c'è stata questa mazzata perché Corrado Ricci non era uno qualsiasi era l'uomo più potente più influente diciamo nel sistema dell'arte alla fine dell'Ottocento in Italia a Parma naturalmente doccia fredda da quel momento in avanti un po' per l'auctoritas e un po' perché non sanno neanche che pesci pigliare molti si mettono dietro la scia del nostro Ricci e non dicono assolutamente più nulla del dipinto sarà Venturi Adolfo Venturi nel 1924 dice ma guardate che ci stiamo sbagliando guardiamolo meglio e c'è tutto un lavorio ecco lì sì critico di approfondimento di studio di questa opere e di tentativo l'unico tentativo che si ha è quello naturalmente di fare dei confronti perché questa tavoletta non ha una storia o meno ce l'ha ma anche questa a partire dal 1600 sono saltano tutti fuori nella prima metà del 600 quindi a furia di mettere di fianco le opere certe di Leonardo quindi la Vergine delle Rocce per esempio che ha dei dettagli con le teste molto e i disegni per cercando di mano a mano che la storia dell'arte è progredita naturalmente nelle conoscenze perché noi sappiamo che è una disciplina abbastanza giovane e ancora alla fine dell'Ottocento c'erano una quantità di Leonardo che potevamo riempire delle gallerie come quelle di Versailles quindi mano a mano che si procede si riesce a capire che la qualità di questo dipinto la qualità la semplicità è uno dei valori e poi si fa una disperata ricerca come è stato fatto qui delle fonti ma possibile che sia un'opera così importante non ne abbia mai parlato nessuno e infatti la prima fonte si trova nelle collezioni dei Gonzaga quando in occasione di quella famosa vendita del 1627 che peraltro va a finire quasi tutto a Londra da Carlo I si parla di una testa di donna retratta detta la scapiliata dalla quale si cava ancora oggi il nome quindi c'è stato un lungo lavorio di dibattito ma è stato un dibattito forse anche perché il dipinto non era in vendita questa credo che sia la differenza un dibattito molto pacato molto calmo di tentativo di arrivare alla soluzione oggi non c'è l'unanimità su questo dipinto ma neanche diciamo sulla Gioconda c'è l'unanimità su chi sia sto benedetto personaggio e la Gioconda è un quadro consolidato al catalogo di Leonardo quindi esistono delle zone che la storia dell'arte o comunque la ricerca non è riuscita del tutto a risolvere e questo è un caso andato bene poi c'è un caso invece che è andato malissimo ed è un caso emblematico su cui guarda caso è stato scritto un libro simile a quello che ha scritto Pierluigi cioè una deliziosa avventura e questa avventura comincia nel 1919 quando due bravi sposini ecco che si chiamavano Anne André e Harry Anne americani si sposano in Francia 1919 e una vecchia zia che era una nobile vecchia zia di lei invece vi faccio un bel regalino prima di partire vi regalo un quadro e regala ai due giovani quella versione che vedete lì questa e attualmente i due dicono ma questo qui mi sembra di averlo già visto questo quadro qui e la zia a mezza voce gli dice guardate che io vi do un quadro molto importante ce n'è uno al Louvre ma quello del Louvre non è vero è questo quello vero e questa è una classica molla che nella storia dell'arte ha generato delle speranze infinite e cociute nei proprietari dei dipinti quello che c'è al Louvre non è quello vero è il mio e su questo equivoco naturalmente questi due giovani si sono praticamente rovinati la vita perché tornando poi negli Stati Uniti come diceva il nostro Pierluigi non è che hanno pensato di metterlo in salotto e guardarlo tutte le sere mentre giocavano hanno subito pensato se è un Leonardo qui dobbiamo subito venderlo e comincia un'operazione un battage trovano uno storico dell'arte diciamo così che è convinto che è un Leonardo da Vinci tra l'altro si aggancia a un fatto che in effetti la versione che c'è a Louvre era a quel momento a quegli anni ancora incerta se fosse un'opera di Boltrafio c'è sempre questa spiaggia che si chiama Boltrafio perché è un pittore di grande qualità e quindi potrebbe essere il secondo Leonardo allievo certo tra l'altro perché Leonardo lo cita nei suoi documenti bene e loro si mettono di buzzo buono c'è questo storico dell'arte che gli dice guardate state tranquilli questo è un autografo quello del Louvre non è assolutamente buono è di Boltrafio voi ci avete il Leonardo Vero cerchiamo di venderlo e per venderlo bisogna far circolare la notizia che c'è questo Leonardo la notizia capita in mano al re degli antiquari Joseph Duvin il quale interrogato da un giornalista dice no no ma questa è una crosta assoluta lasciate perdere è proprio un Leonardo che non vale niente e questa frase riportata sul giornale brucia il valore commerciale del quadro e allora i Han i due iconici dicono fanno causa al potentissimo Duvin cosa che una cosa inaudita che due giovani un po' inesperti facciano causa all'uomo che era allora più potente e più influente nel mondo dell'arte negli Stati Uniti chiedono gli chiedono 500 mila dollari nel 1921 per la mancata vendita del risarcimento visto che lui ha giudicato il quadro senza vederlo questo è il motivo per cui raccontano dicono fanno questa causa il Duvin dice ma venite una si fa spiegare che cosa che cosa hanno questi gli dicono no noi abbiamo questo quadro noi sappiamo che durante la rivoluzione è stato sostituito quindi e là c'è una copia noi abbiamo l'originale e poi dicono una cosa che Duvin deve essere scompisciato dalle risate che c'è l'impronta del pollice di Leonardo che vi dava anche un po' la come erano naif questi due che ascoltavano queste fregnacce allora Duvin dice vabbè va bene facciamo così invece di darvi 500 mila d'or faccio qua girare qualche fotografia datemi qualche foto la manda in giro per il mondo e lo fa vedere anche a Berenson che si trovava in viaggio in Egitto anche Berenson guarda la foto e dice ma figura questa è una copia quindi lasciamo perdere e quindi fanno Duvin fa un dossier e lo consegna ai due e dice scusate ma vedete io ho fatto vedere a tutti e tutti dicono che ho una copia naturalmente i due non si arrendono perché perché dicono che sulle fotografie non si giudica il dipinto quindi Duvin è costretto pensate a pagare il viaggio a questa signora qua portarla dagli Stati Uniti in era Kansas City a Louvre e fare un confronto i giornalisti si facevano a botte quel giorno per poter entrare a questo confronto che naturalmente ebbe un verdetto già chiaro questa seconda versione uscì a pezzi da quel da quel verdetto ma i due non si arresero e quindi fecero causa di nuovo al al a Duvin in questo caso e lo trascinarono in tribunale 1929 anche lì una fila infinita per andare al processo del secolo e lì Duvin commette degli errori clamorosi per esempio avevano già fatto fare loro le famose ricerche scientifiche sui quadri gli anni 20 ma si poteva già e si erano accorti che il legno non poteva essere come dicevano Duvin una copia recente doveva essere e dimostrano le ricerche fatte e quindi le analisi scientifiche che il quadro è comunque antico poteva essere una copia ma era antico Duvin non prende in considerazione assolutamente queste cose non gliene frega niente e così non ritiene di dover prendere in considerazione un aspetto che invece sembrava molto importante che il quadro fosse antico ma davvero il vero errore che lui fa è durante il processo non guarda mai la giuria sprezzante guarda sempre solo il giudice perché sapeva che la giuria era composta da un produttore d'abbigliamento un tapeziere un portiere d'albergo e un disoccupato e dice questi cosa vuoi che ne sappiano di quadri e quindi non si rivolge un errore clamoroso e devo dire che l'avvocato di questi due un genio questo Miller riesce a ribaltare la situazione con un affondo terribile allora Duvin aveva prodotto tutta una serie di expertise compreso quella del potentissimo Bernard Berenson che gli aveva detto guardate l'avvocato Miller tila fuori in quel momento lasso cala lasso dimostra che Bernard Berenson è a libro paga di Duvin prende il 25% su tutte le attribuzioni che lui fa per il mercante e quindi getta un'ombra di terribile dubbio su che cosa è qui sull'attribuzionismo cioè su quella scienza così un po' evanescente che permette le persone molto ben allenate a guardare le opere d'arte nel dettaglio di stabilire l'epoca e possibilmente lo stato di conservazione e perfino i più bravi anche eventualmente l'autore ecco questa era una disciplina che si era già perfettamente perfezionata ai tempi di Berenson erano già bravissimi ma nel processo si viene si mette in discussione questo dettaglio questa disciplina intera e alla fine il tappezziere il disoccupato cioè la giuria decide che hanno ragione Han che quel quadro è Leonardo è antico e condannano a pagare una bella multa Duvin naturalmente Duvin può ammettere solo che è antico non ammetterà mai che è Leonardo da Vinci i poveretti però non sanno cosa li aspetta perché comunque il giudizio di Duvin che viene smentito in modo così clamoroso nel processo ha comunque un peso enorme vanno in giro per il mondo e tentano di vendere il quadro e nessuno glielo compra pensate che ancora il processo è del 29 nel 1960 fanno un'altra prova riportando all'ouvre di nuovo il quadro e facendo un altro confronto come se passando un po' gli anni magari le due signore cominciavano a somigliarsi un pochettino mi risulta che Jacqueline Han attuale proprietario del quadro ce l'abbia ancora sul gobo cioè se volete proporlo voi come intermediari e cercare uno di questi emironi qua che comprano qualsiasi cosa gli passi per le mani magari c'è la possibilità con una certa abilità di trovare questa situazione quindi questi quadri e questi argomenti sono veramente delle squisite avventure e il libro di Panza è raccomandabile proprio perché uno passa due o tre ore divertendosi e vedendo come le persone possono essere anche ciechi davanti all'evidenza grazie bravo il Panza allora l'unica chiave per affrontare questi temi è in verità il vecchio proverbio milanese pensa male se fa male ma sei induina cioè noi viviamo in un mondo che Panza racconta bene devo dire la verità cioè a furia di scrivere libri migliora incredibilmente li fa sempre più rapidi ti impegni meno come tempo e ti impegni più come testo e il risultato è buono la racconta è anche divertente perché tu quante aste sei andata da Crestesano a New York eri in asta quando l'avevi andato no no perché io ho avuto ho avuto una parte della mia vita io ho fatto quel mestiere tremendo mercante d'arte quindi ho vissuto quel momento emozionante in cui i banditori ti trasformano in vittima e sono messi lì come una serie di cacciatori adesso quelli di Crestes erano sempre un po' più chic di quelli di Sotheby Sotheby voleva essere ancora più tough di Crestes la sala di New York era fantastica c'erano due negroni non è un detto si può dire ancora negroni perché erano due signori neri molto grandi erano due negroni che erano lì esattamente come la caccia al leone cioè perché era questa sala enorme dove tutto si agita e dove in un attimo tu passi da un prezzo piccolino a un prezzo inimmaginabile e questi qua i cacciatori questi cacciatori africani erano lì che urlavano quando vedevano la mano che diceva ehi e quello che batteva diceva non è più mezzo e di andare e di andare in background e lui ripartiva sull'altro cioè questo meccanismo è che ovviamente è stato inventato dalla popolazione più abile nel commercio tutto il globo terrestre che non sono i cinesi sono gli inglesi cioè gli inglesi sono in grado di vendere di tutto pur di non dover lavorare ed è il motivo per il quale vogliono anche uscire dalla comunità europea così hanno più clienti a disposizione lavorano meno l'inglese adora vendere e di fronte alla vendita non pone nessun limite teontologico cioè quello che conta bisogna vendere tra l'altro c'era una cosa che voi avrete assistito alcuni di voi alle aste c'era anche quest'altra storia fantastica perché io sono stato anche acquirente e siccome ero un acquirente con pochi soldi se per me a tirare la mano a un milione e duecentomila dollari era una sposta di suicidio con il negro sempre e si urlava contro e la cosa fantastica quando la figlia buttava giù il martello e diceva for one million and two hundred thousand dollars only dico come solo ma è pelato cioè ma questa era proprio questa questa liturgia del only che doveva chiudere abbiamo qua alcuni testimoni che lo sanno bene che siete tutti in questa sala che hanno visto quel mondo e era un modo in un qualche modo di farti sentire che la questione del denaro lì è ininfluente ciò che conta è stare nel gioco e il gioco sta in piedi in quanto il gioco possa stare in piedi a questo bisogna aggiungere un'altra cosa che mentre nella normativa europea noi seguiamo la normativa napoleonica che lentamente ha imposto i suoi parametri più o meno anche nel resto dei mercati della vecchia Europa e cioè quella della responsabilità del venditore il mercato francese è nato dando seguito anche sotto la dopo la rivoluzione all'unico istituto pre-rivoluzionario rimasto in Francia che è quello dei commissaires che sono ancora cariche notarie che si comprano lo Stato anche se non c'è più Luigi XVI poveretto a incassare ma si fa ancora esattamente come prima e una volta assunta quella carica tu garantisci una autenticità trentenale alle opere che vendi siccome questa caranzia trentenale è cosa importante la si fa ricadere sul Collège des Experts il Collège des Experts certifica quello che ha detto il venditore è vero questo è il sistema francese che in un qualche modo ha inventato parametri tra i quali alcuni anche bizzarri per cui un mobile è considerato antico se un terzo delle sue componenti sono antiche motivo per il quale un nostro vecchio amico che non c'è più purtroppo qua a Milano che era un bravissimo antiquario e che collaborava con delle persone che avevano messo su delle falegnamerie per sostenere dei disperati che si drogavano nelle parti dell'Adriatico prendeva un mobile vecchio e ne faceva tre noi avevamo un caro amico che purtroppo non c'è più neanche lui chiamava i mobili doppi e lui comprava un mobile e li faceva doppi ma secondo i parametri francesi era autentico quindi vi faccio questa premessa perché il concetto di autenticità è estremamente labile rispetto a questo concetto di certificazione pubblica delle autenticità che è di diritto napoleonico esiste il diritto anglosassone che è completamente diverso dove vige ancora il vecchio principio romano antico del caveat emptor cioè che stia attento a quello che compra scusate il termine tecnico sono ci puntini puntini suoi quindi se compra ci ha creduto se non ti compra una volta che ha pagato è suo si sta mutuando questo percorso perché in alcuni casi le autorevolezze delle opinioni contano per un breve periodo della mia vita io mi avevo fatto mercante d'arte e avevo anche assunto una certa responsabilità di plausibilità su quella che era l'attribuzione di alcuni capolavori della pittura futurista e mi ricordo che andai da Sado anni fa quando lo facevo ancora col mestiere e gli dici guardate che quel quadro futurista che vendete per 2 milioni e mezzo di dollari di Severini come futurista non è di quegli anni lì e loro mi credete loro ritirarono quindi c'è uno spazio nel quale la dichiarazione delle opinioni diventa fondamentale vi faccio questa premessa per entrare nell'argomento che il Panza ha affrontato intanto devo dare farti complimenti proprio perché hai raccontato un'asta come è sul serio non ho capito ma tu ci vai alle Aste New York non regolarmente ma l'hai raccontata come c'è proprio ma questa si poteva seguire in streaming e disponibile e lo so ma la sensazione è la sala cioè quell'operazione di sala ha come scopo quello di spingere l'essere umano a spendere il più possibile è una cosa geniale perché mentre nella compravendita solita se io ti compro una cosa o ti vendo una cosa fra di noi nasce un rapporto molto semplice cioè se tu me la compri fai di tutto per comprare a un prezzo minore la tua affermazione da cagnetto al parco che fa la pipì in testa e l'altro cagnetto per dimostrare la sua superiorità proprio da animale consiste nel fatto che se io ti chiedo cinque tu me ne vuoi mettere quattro o tre o due cioè tu vinci se paghi meno nell'asta è l'opposto tu vinci se paghi di più perché non fai più la pipì in testa al venditore fai la pipì in testa al competitore questo meccanismo formidabile fa sì che in asta si gode pagando di più e nel mercato con un altro mercante si gode pagando di meno lo dico anche parlando qua da alcuni colleghi miei che sono diventati molto famosi con gli anni perché hanno continuato a fare questo mestiere e che vivono questa realtà come un dramma quotidiano cioè quando tu vendi il quale ti deve tirare giù il prezzo infatti queste premesse sono necessarie per capire la faccenda io rimango abbastanza convinto che nella fattispecie si tratti di una bufala perché se ci sono due tipologie di esseri umani dei quali io non mi fido sono da un lato i russi e dall'altro lato gli arabi cioè sono i più grandi ballisti del mondo basta guardare leggere i giornali anche in politica cioè se lo sono in politica lo saranno anche negli affari e si sa che lo sono negli affari la mia impressione è che la operazione formidabile della cifra folle di questo dipinto sia una balla e che sia nata perché in realtà con le case d'asti si può fare questo accordo anche con gli esimi anglosassoni americani cioè tu li dai invece di pagare perché una vendita del genere genererebbe in teoria quasi il 30% di introito tra fee del venditore e fee dell'acquirente che poi si ridiscutono in casi del genere e le fee possono arrivare anche al 4-5% comunque è a big amount of money it's real money we're talking about no? di fronte a queste quantità di danaro li accordi che si fanno sono di ogni genere e soprattutto gli accordi che si possono fare sono quelli della legittimazione cioè se tu vai lì da loro noi tre no ma neanche gran parte delle persone qua nella sala ma il russo fabbricatore di danaro e poi il russo fabbricatore di danaro ha una morale elastica praticamente come quei palloncini che buttano per terra che prendono la forma dai mostri il russo arriva lì e gli dice senti io ti do il 3% facciamo la balla i quali te li pago e poi dopo sono fatti i miei perché mi legittimi il valore la mia impressione è che si tratti di un incrocio qua di due cose di una legittima di autenticità che è un discorso e una legittima di valore che è un altro e la legittima di valore è tipico delle bufale dei russi proprio come sai quelle barzerette di Vladimir che incontra Piotr riguarda l'orologio e gli dice ma che orologio hai comprato e dico è lo stesso del mio sì certo è lo stesso del tuo ma quanto l'hai pagato è 3 milioni di dollari e dico porca miseria da me mi ha fregato e l'ho pagato solo due perché il russo adora esibire il danaro per lui siccome il danaro non gli costa niente se non il sangue di un parente oppure due o tre assassini lo si fa facilmente lo si fa con la forza non si fa con l'abilità il danaro non ne costa nulla quindi il danaro va esibito e va giocato la mia impressione è che una quota dell'operazione sia questa dall'altro lato c'è la faccenda dell'arabo ora devo dirvi io conosco un po' il mondo arabo e anche la passione che hanno per far nascere questo museo ma voi pensate che un potente arabo metta nel centro del suo museo futuro l'ebreo più famoso del mondo cioè onestamente bisogna essere dei sognatori per crederci non conoscere negli arabi non conoscere i russi si può presupporre che uno non conosca Leonardo dimentichiamo Leonardo analizziamo solo il percorso psicologico e la bufala che c'è dietro noi siamo davanti a una delle più simpatiche bufale inventate nel mercato d'arte recente cosa che le case d'arte si sposano con estremo amore perché loro hanno bisogno di una cosa hanno bisogno del traino sonoro per tirare dietro tutto il resto le ultime stagioni d'asta non sono un po' sfaticato poi ogni tanto viene fuori quel botto e quando quel botto viene fuori il mondo sogna allora sul mondo che sogna e sui prezzi va fatto un altro ragionamento anche noi abbiamo assistito negli ultimi anni a una crescita affolgorante di alcuni prezzi Jackson Pollock 150 milioni di dollari Picasso sopra i 200 vicino ai 300 cioè delle cifre che uno dice ma quelle sono vere sono cifre vere però su questo dovete fare anche un ragionamento che tutti gli economisti qua presenti capiranno immediatamente che il denaro non è denaro per i ricchissimi il denaro ha una potenzialità di utilità marginale cioè un russo non paga con del denaro il russo paga con l'ultima fabbrica di carri armati che ha venduto un texano non paga con del denaro paga col prezzo del parire del petrolio io mi ricorderò sempre tanti anni fa ero a cena a Denver Colorado da la signora che allora era capo della lobby petrolio del partito democratico la signora adorabile sembrava un po' una petroliera anche lei era vasta ma molto simpatica e aveva un salotto straordinario in questo salotto c'era un bellissimo quadro Jackson Pollock e allora aveva chiesto ma quanto l'ha pagato e aveva pagato recentemente 10 milioni di dollari però poi a cena a un certo punto disse anche se il barile rimane a non so quanto fosse allora pochi centesimi per noi la vita è finita nel giro di tre anni la signora è stata benedetta e il barile ha aggiunto uno zero il suo quadro è Jackson Pollock nel giro di dieci anni ha aggiunto uno zero l'ultimo è stato pagato oltre i 150 mila dollari in petrolio è costato esattamente la stessa cifra questo è un ragionamento necessario per capire le tensioni dei prezzi verso l'alto cioè noi viviamo in un mondo che è delimitato da il nostro presidente del consiglio dalle ansie del Corriere della Sera quando lo leggiamo ne siamo qua a casa sua cioè abbiamo capiamo un mondo che è un mondo tangibile fatto di leggi finanziarie però esiste un altro mondo parallelo al nostro dove i valori non sono più quelli non sono valori monetari sono valori di merce cioè chi compra in petrolio paga i barili di petrolio chi compra dalla Russia in fabbriche di carri armati rubati paga in fabbriche di carri armati rubati sono valori diversi anche l'arabo a sua volta compra in petrolio allora questo meccanismo sta alla radice di questo percorso che abbiamo visto ma è anche una delle causali probabilmente della sua improbabilità cioè può anche dietro a tutto questo gioco esserci una sorta di fantastica invenzione questo però a favore del no a favore del sì negli ultimi anni sono apparsi due o tre casi leonardofili che sono abbastanza plausibili io ho seguito da vicino il caso Caprotti e l'ho seguito da quando è venuto da quando più o meno è apparso e devo dire che lanciare pietre di condanna lì non è tanto facile perché la plausibilità di quel dipinto è molto alta ma c'è un altro che sta girando adesso che viene dalla collezione storica di una vecchia famiglia belga quale possiede questo framento documentato sino dal metà seicento su quale domande si potrebbero aprire non è detto che Leonardo abbia fatto così pochi quadri il tema è ancora discutibile ma io non sono neanche convinto che non sia di Leonardo la questione non è Leonardo non è Leonardo la questione è la cifra fulgorante e in questo caso la cifra fulgorante è la conseguenza di un mercato che quando può inventare la bufala ne è felicissimo perché serve perché rassicura perché fa parlare e perché in fondo poi forse anche l'arabo ci sta ma non ci sta non si sa mai cioè difficilissimo tentato di commerciare con loro non è una roba più semplice del mondo perché lui calcola non in parametri dice questo quadro costa quanto l'ultimo yacht hai fatto bene a dare l'esempio cioè costa uno yacht non costa del danaro costa tot barili di petrolio non costa del danaro il valore monetario è marginale rispetto al valore di merce di scambio che è anche tra l'altro pensate in fondo sono eccellenti finanzieri questi del mondo arabo giocano su tutte le borse ma rimangono sempre con questa cosa che in realtà per loro il più grande dei mercati possibili è quello del baratto cioè psichicamente si barattano realtà si barattano dei pesi e questi pesi poi assumono un nome monetario ma la percezione del peso è una percezione di baratto questo è a favore del mondo arabo rimiani però sempre questo mio dubbio che un arabo metta un ebreo al centro del suo museo me la devono dire tre volte prima che ci creda se ci sono domande altrimenti magari qualche osservazione ancora da parte nostra ma Cristo era ebreo non ci ha risposto no su questo posso però abbozzare un'ipotesi di risposta su questo la questione è questa che il Qatar aveva lanciato un programma per lo sviluppo turistico a Doha e da lì attraverso una serie di investimenti i paesi l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi rompono con il Qatar circa cinque anni fa perché sostengono che abbia aiutato l'Iran che è l'altro paese di riferimento del Medio Oriente e sostengono che abbia aiutato anche le primavere arabe rompono completamente i rapporti diplomatici nel 2016 questo Mohammed bin Salman l'erede al trono che cosa fa? vara un progetto che si chiama Saudi Vision 2030 per fare dell'Arabia Saudita e degli alleati Emirati Arabi i nuovi le nuove mecche turistiche per i ricchi di tutto il mondo istanziano fondi di investimento su fondi di investimento per questo è in quest'ottica che funziona l'ebreo l'ebreo Gesù divinità del mondo cristiano che io ti metto nel mio museo globalista dove anche le religioni come dire stanno sullo scaffale esattamente come sullo scaffale dell'esse lunga perché loro hanno ovviamente non c'è più alcuna dinamica storica all'interno del museo come era l'Ubra dei tempi di Vivant Denon ma sul loro scaffale loro hanno l'Eupanishad da una parte la Torah dall'altra la Bibbia più antica dall'altra ancora hanno questa necessità assoluta che tutte le religioni tutte le culture eccetera eccetera siano più o meno parimenti rappresentate questa è una tua visione molto positiva del mondo arabo siccome è un romanzo siccome è un romanzo questo qui l'ipotesi positiva dell'acquisto da parte degli arabi è questa Saudi Vision 2030 e no vuol dire che possono anche comprare la primavera di Botticelli sono pronti anche a fare una cosa terribile a mettere le donne nude non solo nella testa nei sogni ma anche su un dipinto ma da lì al giudio Gesù Cristo Genver cioè lì proprio la cosa che invece in tutta la vicenda poi anche un po' stupisce come stavi dicendo tu questo qua e caprotti di caprotti diciamo e poi questa c'è questa ossessione ma questa scusa è proprio degli storici dell'arte dell'originale Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci perché già quando muore Salai 1521 noi abbiamo il documento di quello che c'era ancora in casa a Cortevecchia che poi è quello che c'era nella bottega di Leonardo e a un certo punto di sto documento dicono e ci sono due Cristi benedicenti no c'è un Cristo benedicente e ce n'era anche un altro per cui 1521 loro hanno di già solo questo o presumibilmente vedono solo questo dal modello dal modello del maestro ma tutto questo modello del maestro è una mitologia cioè potrebbe veramente non esserci mai stato cioè non è obbligatorio che ci sia questo originale Salvatore Mundi di Leonardo dipingeva una bottega Leonardo può benissimo aver fatto i disegni parte dei disegni come è noto non ha mai finito un quadro non ha mai non si è mai cimentato lungamente con continuità e sai quante volte Boltraffio piuttosto che Salai potrebbero averli fatti insomma è un po' una mitologia che ci fosse questo originale che si è andato cercando per tutti i secoli insomma queste sono ma alla fine vedi alla fine vale ciò che si attribuisce a Duvin come una delle sue più belle battute davanti a un grandissimo cliente dicendogli questo che abbiamo qua è un Botticelli famoso lo so io lo sarei quello ha pagato cioè è una delle fa parte del mito di Duvin questo racconto no? e poi se già schicciate se hai un dubbio chiama il Bernard Berenson quando torna non ti preoccupare dice di sì anche lui perché c'è la stecca allora il mondo è fatto così in alcuni casi però nella storiografia moderna c'è un elemento in più che si è venuto a stabilire se questa bottiglietta qua davanti a me non è di plastica dimmi tu di che materiale è cioè se non è di lui qual è l'altro pittore contemporaneo che potrebbe aver fatto la stessa cosa diventa una domanda interessante perché nel caso del Salvatore Mundi questo qua dei Millions l'area moltraffiana sarebbe stata capace di produrre una cosa molto analoga e poi sui leonardeschi stessi gli studi sono ancora molto tranquilli perché siccome Conte Leonardo e leonardeschi si sono dimenticati nell'insieme ma è un'area che andrebbe integralmente indagata la sciura con l'ermelino è suo o non è sua ma il dubbio è anche quello cioè quello che è quello dell'ermitage che c'è la gamba del Gesù che sembra che l'abbiano rotta come il coniglietto prima di venderlo quando è già andata in macelleria è suo o non è suo per i russi è suo quello che veniva da Elitta per uno che guarda con un occhio un po' carognesco attribuito a Leonardo io l'ho guardato dieci volte dico sai non è che io ci capisca molto ma se metto in fila cinque pere poi c'è un'altra cosa una mela se uno non sa niente di frutta può confondere cinque pere una mela ma uno che un po' ha usato la frutta vede no non è mica più una pera questa è una mela e quello dell'ermitage è uguale quindi l'ambito di questa bellissima area grigia che è l'area dei dubbi è quella fantastica nella quale si può inventare tutto cioè quello che lascia all'umanità il diritto di essere creativa ed è anche quella che genera poi i grandi giochi delle fantasie le opportunità e che può rendere felice l'arabo se lui l'ha comprato o meglio ancora molto più facilmente russo che probabilmente se l'ha ricomprato addosso e sta tentando adesso di rifilarlo all'arabo io sono cresciuto su marciapiede quindi ho avuto la vita da marciapiede nel mercato dell'arte due o tre cose le devo avere imparate se ci sono domande oppure te ne prego il nome degli esperti che si sono sbilanciati per confermare anche pubblicamente che secondo loro si tratta di Leonardo Pietro Marani Martin Kemp Carmen Bambach e ce ne sono anche degli altri che sono le uniche persone adesso al mondo credo che possono dire di avere visto ed esaminato la gioconda e la pittura di Leonardo più volte e lei facendo a questo nel suo libro si è formato un'opinione su come mai si sono sbilanciati questi esperti cosa hanno da guadagnare in termini di reputazione da una bufala no io non l'uomo rema per la pila no in realtà il libro è un non dà giudizi circa l'attribuzione racconta la storia racconta le vicende anche in maniera a volte un pochino ironica però a questo proposito voglio dirle che sono rimasto sorpreso di un aspetto il fatto che comunque i quattro esperti vadano vengano convocati alla National Gallery dopo che gli esperti della National Gallery hanno già sostanzialmente fatto la loro valutazione l'hanno già ritenuto battezzato un Leonardo a nessuno dei quattro esperti viene comunque chiesto di firmare una perizia non vengono pagati lo fanno gratuitamente quindi a un incontro dove loro vanno gratuitamente e danno semplicemente un parere la cosa curiosa peraltro è che comunque la Bambac circa un anno e mezzo dopo fa una pubblicazione sull'argomento dove non appare per nulla così convinta che si tratta di Leonardo da Vinci per cui è vero che siamo diventati soliti dire che i quattro esperti unitariamente sostengono che sia Leonardo da Vinci però già un anno e mezzo dopo la Bamba che scrive un articolo mi sembra per il Burlington Magazine non mi ricordo adesso la pubblicazione ma dove prende insomma è più è più dubbiosa ecco questo sì potevo aggiungerti una cosa magari abbiamo assistito l'anno scorso a questa bella idea che aveva avuto il nostro amico Bradburn di fare venire a incontrarsi due Caravaggio uno su quale tutti sono d'accordo e uno su quale meno persone sono d'accordo talvolta il confronto visivo è estremamente importante ma anche se il confronto visivo è importante e poi quando tu spieghi una cosa quell'altro ci deve credere cioè perché tutti si rifugiano in una delle simpatiche bufale della modernità che credere alle analisi chimiche le analisi tecniche le analisi fotoniche tutta sta roba qua va bene cioè puoi dire se proprio guarda la pala sulla quale dipinto viene dall'America Latina che non era ancora scoperta probabilmente non può essere sua fin lì ci si arriva ma si arriva per esclusione ma molti casi tutte queste cose qua sono un po' delle simpatiche invenzioni sul caso per esempio di Caravaggio alla fine il discorso doveva essere stilistico ma sul discorso stilistico dipende molto dalla sensibilità di chi guarda cioè se io trovo in Caravaggio la necessità di un realismo quasi tangibile cioè per cui una pelle di Caravaggio è una pelle vera o un pezzo di metallo un pezzo di metallo vero ma ce lo vedo io se uno non è abituato a vedere la veridicità del metallo di Caravaggio lo metto lì davanti fa l'effetto che può fare a me quando mi metti davanti ho un testo cinese arcaico non sono in grado di leggerlo non ci capisco nulla quindi in questo caso ancora una volta i decriptatori cioè i decifri cioè quelli che vanno a capire sono veramente molto pochi e poi quei molto pochi sono anche tendenzialmente in un qualche modo simpatizzanti antipatizzanti ci possono tirare dentro quindi io tornerei sul vecchio principio del mercato americano dal quale il quadro proviene che cava il tempter che l'acquirente stia attento sono fatti i suoi una cosa ancora volevo chiedere cioè riguardo a questo questo esempio di Caravaggio infatti la relazione finale degli esperti era abbastanza favorevole all'attribuzione a Caravaggio abbastanza l'avevo letta era una descrizione sintetica però poi adesso di questo quadro ritrovato in soffitta a Lione la Giudite Oloferne già non se ne sa più nulla a memoria come sa bene Carminati perché ne ha curato parte della mostra io ricordo un caso di attribuzione fatta senza documenti e poi anni dopo curiosamente come dire accertata nei documenti che sono saltati fuori che è quella di Caravaggio che hai presentato quando in banca intesa c'era la collezione dei Doria e lì prima venne attribuito a Caravaggio su base diciamo stilistica per semplificare molti anni dopo venne trovato questo documento del viaggio del quadro che certificava che era di Caravaggio il padre dei restauratori primo trattato sul restauro venne fatto da Bartolomeo Cavaceppi alla fine del settecento e diceva perché un'opera sia autentica è necessario che almeno i due terzi siano veri l'altro terzo chi se ne frega della statua antica sia completamente rifatta ora voglio dire visto che rifacciamo lifting a naso orecchie cambiamo noi stessi individui di sesso da ieri si può rifare il viso eccetera eccetera il restauro è una paziente meticolosa opera di salvaguardia di un infermiere dell'arte o è un nuovo chirurgo che col bisturi naturalmente ti fa saltare fuori quello che vuoi in alcuni casi il restauro può leggermente migliorare i parametri attuali del restauro non ti consentono più di cambiare radicalmente le cose cioè come quando mi ricordo quando eravamo ragazzi diceva ma togli il teschio che ha a mano metti un mazzo di fiori che col teschio non lo venderai mai quel quadro e adesso io l'ho visto fare ancora Carlo mi puoi confermare conoscevamo le persone che le facevano queste cose oggi non sei più a quel livello lì anche perché in un qualche modo la perizia di chi indaga è cresciuta l'attenzione di chi compra si è anche acquita nel restauro però rimane sempre aperto un tema molto particolare che esistono culture mentali diverse del restauro cioè per il mondo anglosassone il restauro è comunque migliorativo per noi è in un qualche modo più idealista è la ricerca della originalità e che diventa l'originalità sono varie scuole ma in questo caso non è tanto la questione del restauro che conta qui è proprio alla fine il dibattito è o non è ma questo questo è o non è è un patto filosofico perché è un quadro è un Cristo e tutte queste cose sono vere poi che sia di Leonardo o meno rimane who knows non lo sapremo mai e comunque nel corso dei secoli ha perso l'aureola e questo per il come dire per l'arabo che lo ha migliora già un po' migliora molto migliora molto cioè è privato del simbolo dell'eternità e della santità migliora rifarmi un attimo all'intervento della signora che giustamente chiedeva conto delle persone che hanno visionato credo con grande attenzione con calma in un momento cioè riservato perché il dipinto non era ancora stato restaurato che dava segni diciamo di interesse quindi venne portato dall'America in Inghilterra e prima ancora della famosa mostra dove poi l'abbiamo visto tutti vennero convocati gli studiosi che sono stati citati ecco nel libro devo dire con grande onestà Pierluigi fa percepire la diciamo così la prudenza con cui queste persone hanno affrontato perché sono tutti degli storici dell'arte quindi la storia dell'arte chi la pratica un po' pratica anche la virtù della prudenza perché sparare dei nomi a caso può essere controproducente anche per la propria professione soprattutto in un contesto come quello in cui museo chiamato le persone quello che bisogna calcolare è il silenzio di tanti altri perché intorno a questo dipinto si chiama silenzio dell'innocente appunto molte persone non hanno detto nulla e bisogna tenere presente che nella storia dell'arte esiste un filone molto preciso che è quello degli attribuzionisti cioè persone che sono in grado non sono degli specialisti di Leonardo sono in grado di comprendere perché hanno una lunga pratica un occhio ci sono queste persone spesso stanno nell'ombra e in questo caso io che poi sono andato a chiedere a questi silenti o questi innocenti silenziosi molti non erano d'accordo ma hanno deciso di non prendere nessuna posizione prima Philippe citava il quadro di Caravaggio e quell'affiancamento che ha creato un po' di ma vorrei ricordare che il quadro di Caravaggio del nostro di Brera di cui noi andiamo felicissimi e sappiamo certamente che il Caravaggio fatto quando Caravaggio fugge nelle proprietà di Paliano prima di arrivare a Napoli e guardate che questo Caravaggio venne ritrovato in questa famiglia romana mi sembra da Lionello Venturi il quale mi sembra lo pubblicasse ma siccome Lionello Venturi era un nemico giurato di Roberto Longhi Roberto Longhi non ha mai avvallato l'attribuzione quindi dovete tenere presente in questo gioco anche gli odi feroci i partiti che ci sono all'interno soprattutto del mondo accademico e ci sono sempre stati per cui si taceva volentieri la verità perché Longhi sapeva perfettamente che quel dipinto di Brera era di Caravaggio e lo ha ammesso nel 1951 ha aspettato 42 anni per dire quello di cui era convinto pur di non dare soddisfazione al suo nemico giurato Lionello Venturi ecco tutte queste cose vanno calcolate e la cosa migliore sarebbe conoscere bene i singoli personaggi un po' la storia dei singoli studiosi per vedere anche questi dettagli sono molto importanti io per esempio nel giornale sto molto attento a queste cose di non far comparire due giurati nemici uno accanto all'altro nella stessa domenica i nemici si alternano diciamo una domenica sì e una domenica no la Giudite Oloferne di cui hai fatto l'esempio che era stata portata l'anno scorso qui a Brera e comparata con la copia che aveva fatto Finzon alla stessa epoca ha un vantaggio però rispetto al Salvatore Mundi che noi abbiamo un documento che testimonia che mi sembra Napoli nel 1608 Caravaggio l'avesse dipinto dopodiché si è perduto il quadro e adesso questo viene proposto come è possibile ma che Leonardo abbia dipinto una testa di Cristo per il re di Francia noi non abbiamo la traccia del benché minimo documento non abbiamo il benché minimo documento che attesti che ha fatto un Cristo detto così il finale non va bene allora finiamo che Ribolo Vleva come dicevi tu è un bel tipino perché lui ha lagato una miniera negli Urali sopra la quale c'era un paese la miniera pian piano è sprofondata hanno dovuto evacuare il paese lui se ne è tranquillamente fregato sono rimasti tutti senza casa e lui ha portato a casa insomma quello che gli interessava se lo incontrate siete avvisati va bene vi ringraziamo grazie a tutti bene pensare bravo 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 grazie a tutti